Al senso, vedete che ancora qui si stanno allungando le transenne. 5 minuti a testa, 800 per 5 minuti diventa un bel coso. L'interventismo a posteriori del sindaco non serve, tuona il PD dopo il blizzi in Portovecchio di Di Piazza per le code al centro vaccinale, con polizia locale al seguito e transennatura prima temporanea, poi definitiva nel pomeriggio. Ma perché il sindaco interviene a cose fatte, non si è occupato della questione del covid in questi mesi, ha messo a disposizione il magazzino, l'ha inaugurato, è facile così, bisogna anche organizzare e gestire una situazione di questo tipo, perché mi risulta che all'interno abbia funzionato tutto bene, quindi in questo caso non è un problema della sugi, la disorganizzazione, ma all'esterno non si possono lasciare persone anziane, ammalate, fragili, perché di queste persone stiamo parlando, assembrate e in alcuni casi anche con grande difficoltà di deambulazione, stare lungo tempo all'impiedi. E noi sta, e noi sta troppo, troppo. L'arrivo anche dei vigili urbani, secondo i DEM, è la prova che si era venuta a creare una situazione di rischio per le persone anziane e i soggetti fragili. Il sindaco e la polizia municipale è intervenuta solo dopo, quando la gente protestava e stava lanciando degli appelli anche dell'indignazione per ciò che stava accadendo. Quindi oggi è andata così, ci auguriamo che da domani le cose funzionino meglio, però non si può improvvisare in questa materia. Siamo davanti ad una situazione pandemica che ha coinvolto tutto il mondo, abbiamo visto come si fanno le cose, devono essere fatte anche qua, solo questo.